Per giovedì 8 giugno Le notizie del TG Ora duro colpo alla Camorra a Barcellona in un'operazione internazionale contro il riciclaggio di capitali che ha portato finora a una quantità di arresti in Spagna, Italia e Germania nel mio dio dell'inchiesta coordinata dal magistrato della sezione numero 6 dell'audienza nazionale Manuè Garcia Castellon un clan della Camorra che gestiva i ristoranti e locali nella città catalana e del quale non è stata finora e l'eva rivelata l'identità per non compromettere le indagini in corso sequestrati 520 kg di cocaina scusate 450 kg di hashish e marihuana e beni per 5 milioni di euro l'operazione alla quale hanno partecipato agenti della Guardia Civil Mossos de Scolada la Polizia Catalana e della Guardia di Finanza Italiana è cominciata alle 4 del mattino e si è stesa a varie quartiere di Barcellona dove sono state arrestate 14 persone maggioranza italiane gli altri sono colombiani, spagnoli e venezuelani ed effettuate numerose perquisizioni altre 14 persone sono state arrestate in Italia e 2 in Germania secondo un primo bilancio della procura anticorruzione gli agenti hanno realizzato 15 perquisizioni a Barcellona nell'area metropolitana mentre 2 perquisizioni sono in corso in Italia e 6 in Germania ed è stata perquisita la casa romana del giornalista del fatto quotidiano Marco Lillo in merito alla fuga di notizie sul caso Consip la perquisizione effettuata dalla Guardia di Finanza risposta dalla procura di Napoli dopo la denuncia dell'impeditore Alfredo Romeo secondo quanto riportato dal sito del fatto quotidiano Marco Lillo non sarebbe indagato e la procura di Napoli avrebbe disposto alla perquisizione per la rivelazione del segreto d'ufficio attraverso la pubblicazione del libro di padre e figlio di cui il giornalista attualmente è in vacanza e autore uomini del nucleo tributario della Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito la perquisizione alla ricerca di tracce informatiche sull'origine dei suoi scoop sull'inchiesta Consip nel computer e nel cellulare del giornalista al momento si indaga contro ignoti l'inchiesta per la presunta violazione del segreto d'ufficio nasce da una denuncia a querela dagli avvocati di Alfredo Romeo l'immobiliarista al centro del caso Consip pagare in comune a Napoli dove stamattina poco dopo le 7 alcuni esponenti di un movimento di lotta per il diritto alla casa sono riusciti ad entrare negli uffici della ragioneria e su uno dei balconi nella parapiglia generato dal tentativo di invasione del comune è rimasto ferito anche un vigile urbano una delle occupanti secondo la ricostruzione della questura ha finto un malore per poi aggredire la gente che si era avvicinato i carabinieri di Torre Annunziata in provincia di Napoli hanno arrestato per omissione di soccorso a guida sotto l'influenza di Alcol un cittadino cinese, 41enne, residente a Terzigno già noto alle forze dell'ordine questa notte mentre percorreva via Zabatta in direzione Tre Case l'uomo alla guida di una monovolume lanciata a velocità sostenuta effettuando un sorpasso impattato lateralmente contro un'utilitaria proveniente nel senso di marcia opposto condotta da una 28enne e con a bordo la sorella 20-50 gli agenti della polizia di stato del commissariato San Giovanni Barra Napoli hanno arrestato un 42enne di San Giovanni a Teduccio ritenuto responsabile del regato di maltrattamenti in famiglia i poliziotti si sono recati presso l'abitazione dell'uomo dopo la segnalazione di una lite in famiglia appena giunti sul posto la moglie del 42enne ha riferito che durante una lite il marito l'aveva colpita al volto con schiaffi e pugni e che tali comportamenti erano stati molto frequenti negli ultimi due anni in due occasioni l'accaduto era stato seguito da una denuncia come da repetto medico all'esterno dell'abitazione intanto un folto gruppo di persone ha iniziato a inveire con voci offensive nei confronti della donna accusata di aver chiamato la polizia solo il successivo arrivo di altre pattuglie ha consentito agli agenti di portare via in tutta sicurezza la donna con il figlio presso la vicina clinica Villa Petagna dove sanitaria l'hanno medicata è giudicata guaribile in cinque giorni l'uomo invece è stato arrestato si era ridotto in povertà per pagare i suoi estorsori che lo minacciavano ai piedi dell'altare che non ha mai voluto denunciare dopo sei anni di continue vessazioni e oltre 200.000 euro sottratti al suo patrimonio personale l'anziano prete che vive a Ischia fuorio è stato tirato fuori dalla rete del ricatto dagli uomini della polizia di Stato che l'altra notte hanno arrestato in flagranza di reato un uomo e una donna di origini macedoni loro sono Adyar Ainur 33 anni e sua moglie Merlin di 30 anni residenti da anni a Forio assolutamente insospettabili ed entrambi incensurati e chiudiamo con un appello per una persona scomparsa si chiama Adolfo Troise ha 26 anni e dalla scorsa settimana i suoi familiari non hanno più notizie di lui il ragazzo lavorava come cuoco in un ristorante a Nizza in Francia e da tre anni si era stabilito sulla costa azzurra diversi giorni fa il fratello Gennaro è arrivato a una telefonata dal numero sconosciuto sul nostro sito www.telecapinews.it è possibile visionare una fotografia del ragazzo e chiunque abbia notizie può naturalmente contattare le autorità e con questo per il momento è tutto grazie per essere stati con noi a tutti al prossimo DG1 grazie per aver guardato il ragazzo